Padova non sarebbe più la città dei problemi ma ora è la città delle emergenze. Quasi tutte le forze di opposizione in Consiglio Comunale, assenti Fratelli d'Italia e Gruppo Misto, informano i cittadini che sarebbero in corso dei continui scontri tra moderati e ambientalisti all'interno della maggioranza del sindaco Sergio Giordani e questo porterebbe a una mancanza di una visione generale della città e a maggiori problemi per i padovani, a cominciare dai parcheggi. L'emergenza parcheggi di sicuro è una di queste, del resto i numeri parlano chiari. Allora ricordiamo i 126 posti auto in piazza Insurrezione, i 112 in via Risorgimento, i 40 in Corso Milano, i 425 in Park Rabin, quelli in piazzale Boschetti 276 e potrei andare avanti a non finire perché per un totale di meno 1120 posti totali è evidente che oggi serve individuare una risposta. Che si fa poi dei beni di proprietà comunale? Ubaldo Lonardi ha assistito perplesso alla cessione avvenuta, dice, gratuitamente, di un intero padiglione della fiera all'università. È un depoperamento rispetto allo scopo che questi immobili hanno, che questo terreno ha, vale a dire quello di essere promozione del territorio, sia come fiera che come anche altre attività. Viene meno una parte della fiera al suo scopo senza alcun dibattito su questo. E il comune cosa ne ricava? Il comune non ricava assolutamente nulla, nel senso che tutto quel terreno l'ha conferito a una società di diritto privato che è Padova Fiera Immobiliare, dove è socio al 49%. Per questa cessione il comune, dice Lonardi, si sarebbe fatto carico, stranamente, dell'imposta di registro pari a ben 2,5 milioni di euro.